Vediamo come pusha, vuole picconarlo, cosa fa? Prende... Eeeh, ma grallate, lo distrugge! Buon mostro! Ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video! Subito pollicione in su, perché guardate che abbiamo il lobby. Captain America, raga, uno dei miei personaggi preferiti della Marvel. E da quello che so, che mi ha detto Bonobo, lo ha incontrato ed è veramente forte. Quindi oggi faremo il provino a Captain America. L'ultima volta che avevo fatto un provino ad una skin speciale, era Travis Scott ed era andato benissimo, raga, era fortissimo. Quindi oggi sono veramente curioso di capire la potenza di questo Captain America. Se è degno di utilizzare questa skin. Comunque io vi ricordo, come al solito, di supportarmi nello shop con il codice Diego Trattino Abusivo. Taggatemi su Instagram e probabilmente oggi andrò in live questa sera. Quindi, raga, se volete fare il provino, codice gradore. Diego Trattino Abusivo e andiamo a vedere questo supereroe della Marvel, Captain America! Ok, ragazzi, ci siamo! Stiamo per osservare questo supereroe. Il primo provino ad un supereroe. Sono veramente curioso e non carica. Ehi! Non carica, però come armi è messo abbastanza bene uno skin. Ok, è il Captain America! Lo scudo così! Raga, ma è stupendo! Bonobbo, ci sei? Oh, sì, sì. Ma lo scudo così non lo sapevo! Cioè, veramente di tenere lo scudo così? Praticamente è il piccone. Cioè, se tu... Cioè, non ho capito il back-back che fa da piccone. È fighissimo! Ma quant'è veloce! A editare! What? No, ragazzi! Ok, dove l'hai incontrato? Dove l'hai incontrato? Praticamente stavo facendo un po' di 1v1 con i fan e mi entrano in lobby... I fan! I fan dei... Hai fan te! Hai fan? Eh, sì! Ma perché hai fan, Bonobbo? Va bene, comunque... Sembra velocissimo, raga! Dall'edit sembra velocissimo! Tanta, tanta roba! Sono veramente curioso! È un supereroe sul serio? È un supereroe sul serio? Non ho capito come funziona questo piccone, sinceramente! Capitano americano! Hai... Hai... Hai kill? Hai kill? No! No, hai detto rinato! Non ci sente? Ok, non ci sente! Attenzione! Capitano americano vuole busciare! Ha sentito un nemico? Ha sentito un nemico? Ce l'ho alla edit! Non va l'edit! Lo prende, lo distrugge, ma... Ma... Ma questo stava fermo! Ma è il suo vero account? No, non penso! No, no, no! Ma lo conosco! Ne... Mai dire mai! Che? Dai, che vuol dire? Dai, mi sto a ritrollare! Chi è, mo? Mi sto a ritrollare! Dai, raga! Stai fatti seri! Chi è, allora, oh? Ti dico solo che lo conosci! Lo conosco! Allora che è in... Un tuo fan! Mi stai più in giro! Buono, buono! Ti dico solo che lo conosci! Mi stai scammato! Guarda! Lo conosco! Bene o male? Bene, bene! Bene! Fra chi è? È Zara! Di nuovo! Tra non è Zara! No, no, no! Non è... Dimmi... Almeno dimmi se è Zara! No, no! Ti dico... Ti assicuro che non è Zara! È Smart! Bu... È una possibilità sola ti ho dato! Non te lo dico! È Smart! Allora, fai... Allora, bro! È Cap! Capitano America! Fai un po' di freestyle! No, regà! Aspetta! No, è Smart! No, regà! Chi è? È Smart! No, no! Non so cosa pensare, ragazzi! Poi me lo dite alla fine, però! Però me lo dite, eh! Quindi non è un provino! Non è un provino! No, diciamo... Voleva... Voleva farsi notare ancora meglio da te, diciamo! Voleva farsi notare a sfruttare... No, non ci sto... Ragazzi, non ci sto capendo niente! Veramente! Ogni volta così... Ogni volta che entra qualcuno con la skin rara è qualcuno che conosco! Ma è del mio team! Forse! Che vuol di forse sia del mio team? Comunque, attenzione! Una kill ha beccato un bot! Vediamo se riesce a fare... Oh! La mira c'è! La mira c'è! Ragazzi, deve pushare! Ma c'è Jimmy che vuole scammare il tutto! Attenzione! Ci prende la hit! No, sta rischiando così, sta rischiando! L'avversario sta pushando! Deve stare attento! Un po' di edit! Riesce... No, aspetta! Non è Smart, forse! Non lo so! Devo capire bene come gioca! Devo capire bene come gioca! L'avversario non sembra essere male, eh! Non sembra essere male! L'avversario lo blocca! Un 92! No, è fortissimo, raga! Chi è? Chi è, raga? No, è fortissimo! Non è del mio team! Non lo so se è del mio team! È del mio team! Forse... Forse è... Si o no, sta fuggendo! Ha preso la jump e sta fuggendo! Anzi, non ha preso la jump perché muori tutti incasinati! Attenzione, 26! Se lo fa! Se lo fa! Non è sceso, deve pushare assolutamente! Se lo fa! Se l'è fatto! Attenzione! Seconda kill! L'avversario non era per niente male! Vediamo il loot! Adesso mi ha messo questa cosa in testa! Facciamo una cosa così, Diego! Cosa? Ogni kill che fa, ti dà un indizio! Ogni kill che fa, ti dà un indizio? Si, un piccolo indizio ovviamente! Ci sto! Ha la safe comunque, eh! Deve prendere la barca! Ho una jump! Non ho la jump! Non ha neanche molti materiali! Attenzione! Ha fatto un'altra kill, quindi posso chiedere un indizio! Vai, vai! Ma qua ci sono i peri scagnozzi di Jaren! Allora, è del mio team? Va bene, dai! Ti ho trollato abbastanza, quindi te lo dico! Non è del tuo team! Non è del mio team? Eh no! Lo conosco! Eh, un'altra kill le devi fare! È chisso troppo! Vabbè ragazzi, ma che è diventato? Indovina chi? Questo provino è diventato indovina chi? Ma è un provino, no? Deve fare kill! Non posso sapere domande! A Bonobo! Guarda e ti venga a cercare a Bonobo! Capitano America, ti prego! Fai altri kill! Voglio sapere chi sei, raga! Adesso ho il pallino qua! Devo capire chi è! Forte, forte! L'abbiamo visto! È fortissimo, raga! Veramente forte! È un player di livello altissimo! Stanno fai tanto! C'è rampino, man! C'è rampino, man! Ti prego, fatelo! Se l'ha fatto! Se l'ha fatto! L'ha scammato! Se arriva tutti e due! Se arriva tutti e due! Ma questi chi sono? Sono fermi, raga! Questi non sono player! Vediamo come push! Vuole picconarlo! Cosa fa? Prende... Eh! Vangrallata lo distrugge! Un mostro! È un fottuto mostro! Raga, non posso parlare che sono le undici o due domande! Bonobbo! Vai, vai! Lo conosco? Lo conosco? No, non lo conosci! Cosa? Mi hai detto che lo conoscevo! Dai, per serio! Forse sì, forse no! No, fra! Lo conosco o no? Fai il serio! No, non lo conosco! Non lo conosco! No! Allora è un provino! No! Che vuol dire? È di un altro team! Sono finite le domande! Vabbè, no, no, non so! Non so finite! Fida te! Si fa questo! Si fa questo semplicemente! Dentro al cespuglio! Dai, fattelo! Fattelo! Capitano America! Non ti farò... Ok! Ma quei pesci? No, aspetta! Ma? No, no! Aspetta! 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 Scendi, capitano! Scendi! Ragazzi! Ma che vuol dire? I pesci volanti? Da quando? Sono su Fortnite! Comunque! Allora! Ha un team! Di un altro team! No! Sta in cerca di team! Allora è un provino! Un ottimo team! Lui dice che si vuole far vedere! Poi, se vuole fare il provino, lo deve decidere lui alla fine! Allora, 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 chi c... Allora non lo conosco! È inutile far domande! Cioè, posso far domande per capire un attimo il player! Raga, è mostruoso! È a livelli di smart! Raga, è qualcosa di assurdo! Cioè, è un mio fan! Bonobo! È un mio fan! Sì, ti stima molto! Dice, ammaretto che... È un mio fan! Ti ho scammato la domanda! Ti ho scammato la domanda! Ti ho scammato la domanda! Non ti sei neanche reso conto! Comunque sono già rimasti in cinque! Ha distrutto tutti, raga! Ha poche kill, ma... Ha distrutto... No, devo capire chi è, ragazzi! Ma è conosciuto? È troppo facile e così dico! Cosa? Che è successo? Una volta mi hai fatto una domanda! Non ci casca! Non ci casca! Dai, Bonobo! Tu non sei il più scammato d'Italia! Vabbè, solo perché sei quello più abusivo in Italia! Allora, è conosciuto! Cioè, ultimamente si sta facendo conoscere molto per la sua bravura! Quindi è un pro player, non content creator! Ma si vede ovviamente! Allora... Fammi ci pensare! Fammi ci pensare! No, raga, è fortissimo! Ha pure bloccato! Cosa? Hai lancio granate! Ha lancio granate dei trick! Dove è andato a finire? Dove è volato? Eh, ha perso pure vita! Però, no, è fortissimo, raga! È veramente un mostro! Comunque il fatto che abbia dei medikit invece che il cecchino... Fra... Boh! Mi sa di competitive player! Cioè... Perché lui non ci si cura subito, non pezza... Però... Non lo so, voglio vedere un po' di spettacolo! Sono rimasti in 5! Sta facendo questo che non sembra essere malissimo, però non... Il player è più forte che ha incontrato la qui sotto prima! Spamma! Lo blocca, riesce a bloccarlo! Non ci sta capendo più niente l'avversario, non ci sta capendo più niente... No, ragazzi, cazzo, non ci sta capendo più niente... 24! Prende la jump addirittura e fugge! Non riesce a bloccarlo! Vediamo se lo prende in volo o no, niente! Lo pusha, deve pushare! Deve pushare un'altra volta, deve pushare un'altra volta! Questo continua a fuggire! Deve stare accattetto perché... Non sembra essere male! Sta spammando! Oh! E qua c'è del rischio! Qua c'è del rischio! Qua c'è del rischio! Questo continuerà a spammare per sempre! Questo continuerà a spammare per sempre, deve farsi dei cildini! Io sto ancora pensando... Chi è? Chi è? Pusha! Pusha così! Mamma mia! Mi ha tolto pochissimo! Ragazzi! No! Oh, ragazzi, ma cosa sta facendo? No, raga, è un mostro, raga! È un mostro questo! Questo è un mostro, raga! Merita di essere conosciuto! Dove è andato? Si è lanciato, deve curarsi! Devo pensare, cavolo, deve pensare... Oh, questo comunque fugge sempre, oh! È riuscito a fuggire in continuazione! È andato, è andato, è andato! Non può fuggire ancora, non può fuggire ancora! Oh, al volo! Faze! No, non sarà mai... Però, attenzione! Ora è un'altra domanda, bro! Quanti anni ha? Quanti anni ha? Oh! Bonobbo, ci sei? Mi stai scamato! Quanti anni ha? Ti l'ho fatta! Hai sentito? Ti dico, è molto piccolo, ha 12 anni! No, mi stai... No, raga, che troll è! Ha 12 anni, Fra! Sì! Fra, ha 12 anni! Io a 12 anni non sapevo fare nulla! Ma non esisteva, forno! A 12 anni, ma anche il PC esisteva! Cioè, a 12 anni stavo a giocare con i Beyblade! Ma neanche! Non lo so che stavo a giocare! No, no! No, veramente, mi stai trollato! Uno contro uno! Ha distrutto tutti, raga! È veramente... No, aspettate! Raga, 12 anni? 12 anni? Fra, questo penso che sia uno dei provini migliori di sempre! Anzi, penso che sia il player più forte che abbia mai incontrato nei provini! Penso! E non sto scherzando! 12 anni? Devo fare la storia! Devo fare la storia! No, capitano, riesce a prendere un cecchino! Voglio una cecchinata! Fra, voglio una cecchinata! C'è il caccio davanti! C'è il caccio davanti! Quella è un pompa! Fra, il caccio davanti! Dove sta andando? Capitano! Davanti! Lo vedi? È il caccio? Ok! A posto del rampino? No, a posto del medikit! Si vede che l'ho portato io! Che vuol dire? Mezzo rincoglionito! No, vabbè! Ma aspetta! Vorrebbe lasciarlo un po' white ora... Ecco il... No! Di quanto, raga? Olle! No, scupo di caccia! No, sc... Ho un'altra domanda! Ok, siamo in lobby! Dimmi chi è! Fra! È facile così! È troppo facile, Diego! Non mi va bene! Che vuol dire? Me sta a rega! Me sta a fregare! Me sta altro là! Chi è? Facciamo così! Facciamo così! Ti do questa opportunità! A me! A me! A bonobo! Ovvio! Vai, vai! Ti spieghi! Se questo video, se questo video arriva a 15.000 like, te lo porto con il primo account! Va bene! Va bene! Me lo porto con il primo account, se arriva a 15.000 like! Raga, conto su di voi! Conto su di voi!